buonasera mister marco vendetti signora mia calcio news non è proprio contento di questo risultato forse si aspettava qualcosa di più considerando specialmente secondo tempo dove la juve ha pressato molto e dove il minan è stato a tratti anche fortunato grazie dispiace non aver vinto comunque la squadra soprattutto il secondo tempo ha avuto più felice in se stesse perché normale in questo momento prima e manca un po la vittoria e quindi perdi un po di fiducia invece la squadra secondo tempo fatto un bel secondo tempo ma come il primo abbiamo concesso poche niente al milan ne sapevamo le difficoltà della partita dispiace non aver vinto però intanto abbiamo messo un punto in più in classifica non abbiamo subito gol e comunque abbiamo fatto una buona partita salve mister giorgio musso di calciomercato.it le chiedo se la convinta la prestazione di ildiz e cosa è successo con vlaovic al cambio grazie con vlaovic non è successo niente perché comunque ho fatto un cambio in quel momento lì ritenevo giusto e opportuno perché comunque le partite non è che possa iniziare in 11 e finire gli stessi 11 sono dei cambi in panchina soprattutto sono ben speranzoso dal fatto che nelle ultime due partite i cambi che sono entrati hanno hanno dato un bel segnale perché comunque a roma sono stati decisivi oggi comunque nonostante non sia vinto abbiamo creato delle buone situazioni ci sta di uscire al campo l'importante che vlaovic abbia fatto una buona prestazione salve mister giornali tele lombardia visto nel finale un tifoso che insomma ha detto qualcosa proprio dopo la fine della partita del precede fisco vuole capire insomma cosa ci fosse stato visto questa questa scena e poi anche come ha preso i cori da parte della curva e qualche fischio invece la parte degli altri settori perché un po si può mettere d'accordo tutti nella vita anche per me quindi per quando ho il tifoso no assolutamente ho salutato un mio amico che era sopra di me che mi ha chiamato scherzando quindi assolutamente mister buonasera antonello gioia tutto mercato web milanews le faccio la stessa domanda che abbiamo fatto a pioli e lei e il mister del milano si è stati molto criticati durante quest'anno come come si può superare questa questa fase come la interpreta e le chiedo anche un pensiero sul tecnico rosso nero il cui insomma finale sembra segnato però insomma un giudizio sul suo lavoro da collega grazie io per stefano grande ho grandissimo rispetto abbia fatto abbia fatto e stia facendo un buon lavoro e quindi posso esprimere solo un pensiero positivo su quello che ha fatto quello che ha fatto a mila poi il resto non posso dire assolutamente niente per quanto riguarda le critiche mi criticavano quando vincevamo figuriamoci ora che riusciamo a vincere quindi fa parte del gioco buonasera max paolo vinci network telecity io mi collego a quest'ultima domanda per fare un bilancio generale la juventus in finale di coppa italia è qualificata in champions league virtualmente manca molto poco quindi i due unici obiettivi che quest'anno sta facendo ha raggiunto gli obiettivi eppure si polemizza tanto si rimbalzano notizie in tutta italia se allegri rimane o allegri non rimane questo mi sembra molto molto strano perché i risultati che all'inizio stagione erano stati previsti sono stati raggiunti vorrei sapere un tuo parere soprattutto se ci puoi dire se rimani ecco in questo momento stiamo vivendo insieme alla squadra insieme a tutta la società siamo mancano mai 20 giorni alla fine della stagione abbiamo un obiettivo da raggiungere che è quello della champions e però ci siamo vicini anche se manca un pezzetto per quanto riguarda invece la coppa italia siamo in finale coppa italia e in tre anni abbiamo giocato una finale coppa italia una l'abbiamo persa l'anno scorso in semifinale come è andata e quest'anno siamo in finale speriamo di vincere bisogna essere un pochino fortunati bisogna essere bravi giochiamo contro l'atalanta comunque una squadra forte e bisogna preparare con tutta la serenità del caso e con tutta la fiducia del caso questi 20 giorni perché comunque sono 20 giorni dove abbiamo lavorato sette mesi dal 15 luglio per arrivare a questi 20 ultimi 20 giorni e poi questi ragazzi questa squadra se lo merita assolutamente buonasera mister luca cavallero timbo radio ha parlato dei cambi le volevo chiedere se l'inerzia del match l'ha cambiata completamente federico chiesa o quantomeno ci ha provato grazie federico chiesa oggi è entrato molto bene soprattutto perché riuscivamo a trovarlo bene aperto con un po di spazio diciamo davanti ha fatto ha creato delle situazioni importanti tra l'altro ci ha parlato dopo la partita e credo che lui poteva fare ancora meglio perché comunque ha avuto le situazioni in cui lui sul primo controllo lo faceva in movimento verso l'avversario sicuramente poteva creare anche più difficoltà al terzino però sono molto contento ma ero contento anche delle partite precedenti e oggi comunque dopo tante partite che ha giocato il titolare ha giocato tanti minuti ha preferito iddiz che magari c'era bisogno più un giocatore tra le linee e quando è entrato ha fatto fatto molto bene ma tutta la squadra nel suo complesso stiamo bene l'importante è ritrovare piano piano tutta questa fiducia che sicuramente abbiamo perso perché quando ti mancano risultati un po di fiducia ti viene a meno ciao max Antonio Paolino Radio Bianconera 13 punti 13 partite chi va piano va sano e va lontano raggiunge gli obiettivi e se è stata una sfida tra le deluse di questa stagione secondo te quella di oggi ora io non vorrei dire deluse all'arrivenzo giochi sempre per vincere però gli obiettivi ripeto siamo a un pezzetto dalla Champions speriamo di arrivarci e giochiamo una finale Coppa Italia con una linea dettata dalla società all'inizio della stagione questo credo che sia chiaro a tutti poi dopo se uno può scrivere il contrario scrivete il contrario ma la linea della società è quella poi si poteva far meglio assolutamente perché comunque il genitore abbia fatto pochi punti rispetto a quello che era andata però quando le cose vanno male o diciamo non riesce a vincere tante partite e non riesce a vincere se aveva fatto 4 punti in più magari con la Lazio al 95esimo con l'Udinese in casa a Napoli al 90esimo magari aveva 3 punti in più e quest'ora è ribello tranquillo però il calcio è bello perché è opinabile e quindi l'unica cosa che conta sono i risultati nel giro di ritorno sicuramente non stiamo facendo un girone di ritorno all'altezza Buonasera Marco Baututto Sport le volevo chiedere proprio in chiave Corsa Champions quanto la preoccupa l'Atalanta nel senso che avendo due partite da recuperare potenzialmente a 5 punti sono abbastanza oppure no? 65 non bastano, ne abbiamo 65 giusto? 65 non bastano, quindi abbiamo 4 partite, ne abbiamo due in casa e due fuori e bisogna fare dei punti quindi poi vediamo cosa fanno le altre il destino è nelle nostre mani però comunque bisogna tornare alla vittoria e domenica abbiamo un altro bello scontro diretto a Roma contro una squadra che sta facendo molto bene Buonasera Ministero, amico di Biasis, oggi Sport e Notizia e mi ricollego alla domanda del collega se domani il Bologna dovesse vincere andrebbe a pari punti vista anche magari l'inesperienza del gruppo a lottare per certi tipi di obiettivi come il terzo posto e il quarto posto questo eventuale risultato del Bologna può portare eventuale pressione alla squadra e se la preoccuperebbe No, non ci deve preoccupare perché noi in questo momento qui ci mancano dei punti ora bisogna preparare la partita di Roma cercando di andarci a giocare uno scontro diretto poi avremo la Salernita in casa e bisogna cercare di fare dei punti per poter chiudere il discorso Champions però fino a che la matematica non ci dà la certezza della Champions bisogna continuare a lavorare e anche dopo per arrivarci in mezzo ci avremo una finale Coppa Italia Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport succede spesso che la Juventus regala un po' un tempo agli avversari è successo a Cagliari anche contro la Razzo si è svegliata nel finale anche oggi meglio nel secondo tempo cioè c'è un motivo per cui c'è questo approccio diverso tra primo e secondo tempo se la vedi anche tu così perché siamo dei benefattori nel calcio ci sono anche gli avversari il primo tempo non è che abbiamo regalato credo stasera sicuramente il secondo tempo abbiamo fatto meglio perché comunque il Milan è calato e noi abbiamo avuto più fiducia però anche il primo tempo abbiamo avuto delle situazioni favorevoli poi in una partita non puoi dominare per 95 minuti ripeto mi piacerebbe anche a me stare 95 minuti col pallone tirare 30 volte in porta fare 25 cross non subire un tiro in porta però ci sono anche gli avversari questo credo che sia fisiologicamente difficile quindi credo che comunque la squadra abbia fatto una buona partita sicuramente dobbiamo migliorare dobbiamo cercare di fare tutto il possibile perché gli avversari non tirano un porta perché noi creiamo 12 palle gol a partita questo bisogna crearlo bisogna lavorarci molto perché su questo siamo ancora indietro però credo che stasera la Juventus abbia fatto una buona partita credo che sia anche nel rispetto dei ragazzi l'ultima Francesco Pellino, Agenzi Area mister, cosa manca a questa squadra per riuscire a vincere partite come questo? più qualità o più esperienza? ci sono dei momenti nel calcio in cui le cose vanno in questo modo l'importante è quando esci dal campo non avere rimpianti che potevi fare o non potevi fare la squadra, questa è una squadra come tutte le squadre che ho allenato quando sono usciti dal campo e questi escono dal campo hanno fatto il massimo possibile quello che possano fare sul piano dell'impegno poi c'è da migliorare tecnicamente poi c'è il momento, la fiducia, le pressioni, le cose quindi a questi ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente sono molto contento e felice sono contento che hanno fatto il secondo tempo migliore del primo e devono avere fiducia totale in se stessi perché hanno 20 giorni per fare un bel finale di stagione grazie a tutti grazie, buona serata